Guarda se è mai possibile che io mi metta a raccontare questa storia del poro poro Dimmi tu che senso ha, del resto poi si tratta e lo scarica a parile Un'abitudine gentile per non dirne sì né no Amico mio d'ancredi, quei soldi che ti diedi, quand'è che me li dai? Mi guardi attentamente e poi così semplicemente mi rispondi là per là Beh, sì, veramente Mi serve un documento perché mi vorrei sposare Quanti uffici devo fare, quante scale da salire L'uscera al terzo piano mi rimanda a quello sotto Torni sabato alle otto, si vedrà che si può fare Partono gli inviti, il documento si è smarrito, ritorna giovedì Non c'è l'inbieghetta e l'uscera sa male Segretà ci spieghi lei Beh, sì, d'altrui Mi chiamano in giudizio, sto per essere interrogato Io mi prendo un avvocato che mi consiglia così, non se la prenda tanto, la prego spia tranquillo, troverò ogni cavillo e la causa vincerà. Lasciando la prendura l'avvocato con premura mi chiede il suo cachet, lo guardo attentamente poi così semplicemente gli rispondo là per là. Beh, sì, veramente avvocate. Per un uoizonti, per un uoizonti, per un uoizonti. Grazie a tutti.